ciao ragazzi salvi a tutti bentornati in questo nuovo video andiamo a vedere questa nuovissima mappa allora 88 73 75 89 69 57 versione 11 altrimenti è baciata quindi come al solito andiamo a vedere ragazzi quello che si deve fare iniziamo la nostra partitina 3 2 1 e si parte quindi nel momento in cui stiamo partendo ragazzi andiamo a cercare le rampe benissimo andiamo come prima soluzione alla rampa verso lo spogliatoio ragazzi quindi a sinistra quindi cinque rampe una due tre quattro cinque e poi cinque pianali 1 2 3 4 5 si non sono un dio a costruire ragazzi lo so perdonatemi comunque va interagiamo con il pulsante dopo di che dovremmo andare lì sopra il palazzo dove metto il ping adesso ragazzi benissimo andiamo di corsa ok di corsa saliamo saliamo di corsa via saliamo entriamo nella porta e dietro troveremo un ufficio e qui ragazzi andiamo ad interagire con il computer o meglio lì al centro tra il computer e la luce siamo ritornati di nuovo in lobby ed ecco qui che i nostri xp si incominciano a far vedere vedere come sempre ragazzi gli xp dipendono da voi dal vostro livello di account e da tante altre cose quindi alcuni avranno di più alti avranno di meno benissimo da adesso possiamo di nuovo andare sul secondo bottone per quanto riguarda la mappa che abbiamo davanti a noi quindi ritorniamo di nuovo sulla rampa e questa volta andremo dalla parte opposta quindi ancora cinque rampe 1 2 3 4 5 5 pianali 1 2 3 4 5 il bottone ragazzi sempre al centro davanti a noi muovete un pochettino il joystick se non ci siete benissimo da qui ci giriamo usciamo fuori dalla porta e ancora una volta una rampa 2 3 4 5 e ancora 5 pianali 1 2 3 4 5 e il pulsante lo troviamo andando a guardare dal centro verso l'alto piano piano ragazzi interagiamo con il nostro pulsante e saremo riportati di nuovo in lobby e qui i nostri xp stanno incominciando a crescere adesso mettiamo un pochettino veloce perché dobbiamo correre verso il ping ma non al ping ragazzi solo verso il ping dove sono i gli apparati che ci faranno tra virgolette correre più veloci o più lenti andiamo quindi a costruire rampa 5 1 2 3 4 5 e altri 5 pianali 1 2 3 4 5 il bottone al centro come sempre interagiamo e saremo riportati qui in questo palazzo andiamo sino all'ultimo piano se non ricordo male si sino all'ultimo piano perché poi ritorneremo e sarà il terzo piano questa volta ma questa volta è l'ultimo piano ragazzi la prima volta è sempre l'ultimo apriamo la porta giriamoci e qui all'angoletto dovremmo trovare il nostro pulsante interagiamo e saremo riportati di nuovo in lobby se non sbaglio sì ok siamo di nuovo in lobby andiamo a velocizzare un pochettino il processo eccoci qui un pochettino più veloci velocizzanti questa volta andremo a fare la stessa identica cosa ma dietro questa rampa quindi una rampa 2 3 4 e 5 come al solito e 5 pianali 1 2 3 4 e 5 quindi all'inizio sono quasi sempre 5 e 5 ragazzi solo qui in tutta la mappa solo qui cambieremo qui saranno una e 2 1 2 è un pianale è un altro pianale 2 quindi due rampe e due pianali andiamo al centro e interagiamo con il nostro pulsante andiamo a velocizzare un pochettino il processo benissimo le cose vanno un pochettino più veloci vi voglio far vedere che i punti ragazzi stanno arrivando vi ripeto dipende sempre da user a user da livello a livello da profilo a profilo andri andiamo alla nostra postazione e risaliamo di nuovo la rampa che avevamo già usato come terza rampa se non ricordo male andiamo ad interagire di nuovo nel pulsante e questa volta era mandati all'ultimo piano la prima volta questa volta dovremmo fermarci al terzo io ho sbagliato ragazzi ho tagliato e ho poi rimesso a posto dovete entrare trovare l'ufficio e quindi andare in bagno controllate lo specchio e lì troverete il pulsante per interagire ricordatevi è la stanza con il computer appena entrate ok poi in bagno e quindi lo specchio andiamo a velocizzare un pochettino il processo guardiamo un pochettino fuori dalla finestra i nostri xp come migliorano e poi scendiamo ci buttiamo giù nel nell'acqua per ritornare di nuovo in lobby saliamo sulla rampa dove abbiamo fatto la nostra prima rampa saliamo tutto e andiamo di nuovo al primo pulsante che abbiamo cliccato ed interagiamo con lui con esso saremmo riportati qui nell'hangar e ritorniamo ancora verso l'ufficio ma non all'ufficio ragazzi quindi corriamo verso il palazzo così saltiamo sopra ancora una volta al lato di questo generatore c'è il nostro pulsante interagiamo davanti a noi vediamo quella struttura adesso sulla destra sarà lì che ci dovremmo dirigere adesso vado a velocizzare un pochettino la velocità ragazzi ecco lì dentro quell'ufficio là sopra quindi saltiamo entriamo sì ancora entriamo nella porta e buttiamoci giù verso la sala comando e al centro di questa sala comando abbiamo il nostro pulsante interagisci ragazzi qui la mappa finisce quindi saranno tutti quanti punti fk io ho continuato a fare la mappa per un altro pochettino di minuti ho voluto arrivare ai 7.000 ai 7.000 passi arrivata ai 7.000 passi sono andato a cliccare il pulsante che si trova all'esterno back to arena per essere riportato di nuovo in arena e qui la mappa ragazzi finisce veramente ritornerò quindi in arena e potete rimanere in fk e poi continuare finché volete mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale attivate la campanella condividete il video con gli amici e lasciate un bel mi piace condividete il video è veramente importante per quel che mi riguarda io vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao